direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto prima di procedere con l'estrazione vi ricordiamo ancora stivale milionario di super enalotto superstar l'iniziativa progettata per la ricorrenza della festa della repubblica solo lunedì 4 giugno in palio ben 10 premi garantiti da un milione di euro ciascuno potete partecipare con validando una giocata super enalotto con superstar valida per questa iniziativa speciale mancano ancora pochi giorni non perdete questa nuova incredibile occasione e conservate chiaramente le ricevute di gioco con i codici alfanumerici scopriamo adesso insieme quale cifra ha raggiunto il jackpot oggi giovedì 17 maggio 35 milioni 390 mila 688 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via l'estrazione del concorso numero 59 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire sei numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 74 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere e il secondo numero estratto è il numero 80 il terzo numero sta arrivando e il terzo numero estratto è il numero 16 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 34 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite e il quinto numero estratto è il numero 79 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente ed il sesto numero estratto è il numero 33 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a 5 numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 64 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 74, 80, 16, 34, 79, 33 numero jolly 64 e ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre eh sì perché superstar moltiplica le vincite super in all'8 fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna, pronti? eccolo il numero superstar di questa sera è il numero 73 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 59 in ordine crescente 16 33 34 74 79 80 numero jolly 64 numero superstar 73 l'estrazione di oggi giovedì 17 maggio termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 35 milioni 300 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 59 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super in all'8 assegna 287 mila 341 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 35 milioni 300 mila euro sarà stato realizzato il 6? questa sera il 6 di super in all'8 non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 36 milioni 500 mila euro e vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 all'unico 5 vanno 165 mila 493 euro i 4 sono 386 e vincono 450 euro ciascuno i 3 sono 13 mila 740 e vincono 37 euro ciascuno e i 2 sono 246 mila 72 e vincono 6 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 12 mila 335 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 2 e vincono 45 mila 9 euro ciascuno i 3 stella sono 39 e vincono 3730 euro ciascuno 100 euro vanno ai 1024 2 stella 10 euro ai 7631 stella e 5 euro ai 18447 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi Super Enalotto vi dà appuntamento a sabato 19 maggio giocheremo per un jackpot di 36 milioni 500 mila euro arrivederci Grazie per la visione